Nel nostro territorio abbiamo una peculiarità che ci contraddistingue, almeno come attività di consulta, di insieme di associazioni chiamiamo, abbiamo intrapreso un percorso diverso per affrontare le idee, per affrontare le progettualità, per affrontare quelle tematiche che difficilmente un'associazione da sola può incontrare. Per cui abbiamo, come ha detto anche Laura precedentemente, abbiamo affrontato il tema cercando di fare nostra l'idea progettuale che le associazioni singole hanno fatto o avevano appunto il desiderio di portare a termine e nei rapporti con le istituzioni abbiamo noi intrapreso un percorso di immagine e di conseguenza di richiesta dove effettivamente ci hanno dato più ascolto. Questo penso che sia una modalità che è nuova perché prima non succedeva, però questa ci ha dato la possibilità di arrivare a conclusione di almeno un'espressione di volontà degli enti pubblici di fare qualcosa. Poi ancora dobbiamo concludere questi percorsi, però questa è una modalità che abbiamo visto che ci dà soddisfazione.